Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPILI dove segnaliamo rallentamenti per lavori tra Ponte d'Aera Ovest e Ponte d'Aera Est in direzione Firenze e in direzione Livorno rallentamenti per lavori tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Val d'Arno. Sempre in FIPILI coda a seguito di un incidente tra l'Interporto Toscano e il Bivio con la 12 in direzione Firenze. Raccomandiamo di fare attenzione per pioggia su tutto il percorso della FIPILI. In FIPILI segnaliamo che a partire da oggi verrà aperto un nuovo cantiere all'altezza del viadotto del Turbone tra Ginestra e Montilupo Fiorentino. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!